e c'è questo nuovissimo video di un video reaction secondo un video reaction secondo episodio allora io sono Kenna ragazzi comunque oggi vi faccio vedere un video che fa troppo ridere questo qua ragazzi è rinominato memes that make think about life ok lo facciamo non so cosa sia però bando le ciance anzi oggi volevo fare questo video perché è troppo veramente troppo epico quindi bando le ciance non ci perdiamo in chiacchiere con il tempo iniziamo subito ok ma cosa sta facendo con il gatto ok questo è un tiktok so this filter shows you your most searched thing on the internet every day so if you scroll in you can see that my most searched image is uh ok ok ma che cavolo sta facendo bravo bravo quello si mette dentro la lavandina potrò si una doccia ora ragazzi questo è veramente un troppo meme che fa ridere guardate 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 c'è praticamente c'è fa così metti metti tre nodi nell'anguria con una busta poi si spaventa no niente si si spaventa con la busta guarda guarda l'anguria esplode ed esplode l'anguria secondo me nella terza guerra mondiale serviranno l'anguria che proprio eh non lo so mettono tre fili e poi mettono tre fili poi inizia quasi ad esplodere e poi le lancia e poi esplode non con le bombe atomiche con le angurie vabbè con riguardiamo ok ok questo prende le posate e cosa sto facendo pulisce la lavagna questo poi c'è quello sporco lì della lavagna mi lo mette in basso ok cosa fa sto gatto va bene ok quanto dura 15 minuti ma se c'è facciamo così ragazzi dato che dura 15 minuti è un po' troppo tardi così un po' troppo lungo facciamo un po' un po' episodi a testa adesso è il primo di questo è questo episodio di meme e poi facciamo il terzo il quarto il quinto così da guardarlo full ok per adesso fino ai dieci minuti del registratore lo guardiamo una torta sono pazze perfetto che sta facendo ma e ora no le lo mette pure quel cane ma lui è pazzo un bandito bravo bravo fai karate fai karate fai karate bravo bravo cos'è quello è polo è polo per caso cos'è bravo ragazzi quello lì fa così dove c'è sotto la parte della bottiglia taglia quella parte e si beve tutta la bottiglia e poi ha bagnato tutto so i went so i went to walmart i found this on my car saying sorry for the damage sorry for the damage on your car can't afford to fix it but but eras chocolate instead john your car can't afford to fix it but here's chocolate instead left this and here's the damage on my car ok ma che fa guardalo questo si allena veramente in forma ma c'è ragazzi fa un colpo lancia il libro no non è che lo lancia gli dà un pugno al libro poi gli dà un calcio e lo sbatte subito in casa ecco pure il cuscino ok si prende i vestiti ma cosa sta facendo sulle scale oh che bella salvata addirittura il calcio che stupido ragazzi ok ragazzi in un minuto il video finisce no 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 arriva 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 alla verga cosa sta facendo no way ma dove la porta no way dice dai fatti colpire da una bottiglia bravo tente 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 tante 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 allora lo facciamo non è che ve lo traduco però pronuncio tutto in inglese wait 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 you tempting tempting si haunt haunt si si in spending your time so much you have so many other flies in your tent lies in your tent oh oh ultimo meme ragazzi ok oh f oh oh ecco dice pure che cazzo ancora dice pure anche se non la voglio dire secondo voi ultimissimo ragazzi ok bravo 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 stupido no ragazzi questo è pauroso abbassate il volume lo abbasso anch'io abbassatelo guardate cosa vi aspetta ecco il rumore vabbè ragazzi questo video reaction no ma che cacchio questo video reaction di 5 minuti e 56 secondi è finito poi domani o non lo so anzi fra due giorni caricherò il terzo video reaction su questo video ma questo è il terzo poi c'è un mio fan che mi ha chiesto che mi ha praticamente consigliato una reaction su un altro video dei gatti quello lo facciamo tra una settimana ragazzi ok quindi ciao vi saluto ragazzi un abbraccio e ciao ciao ragazzi ciao 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 ciao